Il turno bis è una norma che non bisogna scalfire perché il fatto stesso che i mafiosi non la gradiscono significa che funziona. Quanto concerne cospito, la prova della umanità del governo è stata data con il trasferimento ad opera, dove sarà curato nel migliore dei modi. Credo che più di questo non si possa chiedere né alla magistratura che poi deciderà autonomamente una sua scienza e coscienza, meno che con me il governo che ha visto il DAP rispondere immediatamente alle prime istanze dei valorosi signori medici di Sassari che hanno avuto la responsabilità di salvare in cura un paziente difficile, un paziente che non si nutre in una prospettiva direi abbastanza complicata per lo Stato, ma le regole sono regole e vanno applicate in modo uguale per tutti.